Inizia a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di GTA V e faremo comunque un'altra emissione principale, ovviamente. Oh, anche tenna. La razza di emissione sarà questa. Inizia a tutti gli eserciati e direttori di comunicazione, da qui a Bangalore prendendo la parte, la parte, la parte e il centro, nel nome della squadra. E' quello che mi ha detto inizia a me inizia, quando mi ha guardato il mio penis. Io voglio che che vieni ora! Guarda, questo è tutto che ho, ok? Ho avuto una buona relazione, mio padre non mi piace! Ok? Guarda, Debra, ti amo e ti amo anche, Floyd! Perché non possiamo tutti essere insieme, eh? Puoi avere domande e domande, puoi avere domande, puoi avere domande, ok? Lo so che non è normale, ma in questo mondo, questo mondo è normale e così bene, eh? Guarda, Debra, Floyd! Mi casano? Prende il mio condo! Prende il mio condo! Hai detto che ho detto che ho avuto una carriera! Non ho bisogno di questa, questa, questa... ...donna! ...donna! Questa! Mi ha fatto afferminare, tu cosa... ...donna, Floyd! ...crap! Ah, tu non sei un uomo a tutto, cosa pensi a te scrivere? Oh, chi è Bob? Io voglio che i due voi andate ora, tu e i tuoi amici! Wow, hey, mio nome è Trevor, amore! Io potrei dare un pozzo con il tuo f***o nome! Non ho scoperto di farlo, non ho scoperto. Bob, parlare con me! F*** Bob! Tu persone non sono molto f***o buoni! Ok, Devora... Ok. Devora con... Trevor torna a fare casini! ... 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